È vero che più fa caldo e più le pulci proliferano? Assolutamente sì, anche se vi ricordo che gli antiparassitari per i nostri amichetti vanno utilizzati tutto l'anno. Gli antiparassitari esistono in diverse forme, dalle classiche goccine, alle tavolette o alle compresse. L'importante è avere la giusta copertura durante tutto l'anno. Gli antiparassitari sono utili soprattutto per la prevenzione piuttosto che la cura, quindi per difendere i nostri animaletti da pulci, zecche e quant'altro. Pulci e zecche possono portare non poche problematiche, le pulci ad esempio in primis dermatiti allergiche. Quindi mi raccomando l'utilizzo degli antiparassitari in estate, ma non solo, durante tutto l'anno, per preservare la salute dei nostri animali.